Se la musica è da sempre il tuo mondo e ti basta un microfono per sentirti libero, se sei nato con l'iPod e per te la radio non si sintonizza, ma si clicca, se per te è una professione o magari è solo un gioco e non importa cosa, ma hai sempre qualcosa da raccontare, se questa volta vuoi far sentire la tua voce, allora Spreaker è la radio che cercavi, dove lo show sei tu. Che bello pensare ricordi quando ero bambino e immaginare di giocare ancora in quel cortile, che bello pensare ricordi quando ero bambino e immaginare di giocare ancora in quel cortile, al tramonto tornavi sul viso il tuo sorriso, con le braccia tu mi fai volare in alto nel cielo, non so cosa farei a tutto il male che in un soffio ti ha portato via, non so cosa farei, per tenere ancora le tue mani e questa è la mia vita e io la voglio raccontare, in ogni attimo, in ogni battito del mio cuore e questa è la tua vita e io la voglio ricordare, in ogni angolo di questo grande infinito amore, di questo nostro perduto amore. non so cosa farei a tutto il male che in un soffio ti ha portato via, non so cosa farei, per sentire ancora il tuo profumo e questa è la mia vita e io la voglio raccontare, in ogni attimo, in ogni battito del mio cuore e questa è la tua vita e io la voglio raccontare, in ogni angolo di questo grande infinito amore, di questo nostro perduto amore, vivevi ogni tuo attimo con la musica nel cuore ed è per questo che ti scrivo una canzone. e tutto questo male che ti ha portato via, io ti porto un fiore e così sia, io ti porto un fiore e così sia. buongiorno, 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 benvenuti, benvenuti sulla nostra radio, buongiorno, allora siamo qua sulla piattaforma di Spricker, siamo su Radio Vetrina, il bello di poter ascoltare queste musiche, grazie a Maxi Annoli che si ha concesso l'utilizzo di questo bellissimo brano, è uscito proprio due giorni fa su tutti i digital store, un perduto amore, un brano veramente romantico, adatto anche alla giornata di oggi che ha parecchia nebbia, quindi ragazzi intanto che ascoltate la nostra radio mi raccomando state attenti, andate piano perché c'è nebbia in giro, almeno nella zona di Fidenza dove vi stiamo trasmettendo. Vi stiamo trasmettendo dallo store Tribione qui in Via Berinini al numero 13, proprio a 10 metri dalla piazza centrale dove ci vedrà i protagonisti della mattinata di sabato insieme agli amici di Teleton, i nostri grandi amici Maurizio, il Tarso e tutta la banda della sezione provinciale di... intanto salutiamo anche Simone Guarneschi che è venuto a bussare la nostra live, dicevo della sezione provinciale di Parma di Teleton, quindi saremo voce, musica per tutta la mattina, avremo una live e siete invitati tutti, ha invitato Simone, tutti gli altri ragazzi che stanno passando per la nostra live, la Ursula, insomma tutte le persone che vogliono venire a dire qualcosa e a fare qualcosa per Teleton, visto che siamo proprio nella settimana, nella settimana di Teleton, sono invitati. Allora, bando alle ciance e poi ci racconteremo qualcosa nei prossimi blocchi, andiamo con un po' di musica, oggi abbiamo scelto un po' di musica così, natalizia, va! Teleton, Teleton, Teleton Teleton, Teleton, Teleton Teleton, 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 Teleton Teleton, 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 T Grazie a tutti 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 Grazie a tutti